Buongiorno Hai fatto colazione? Se non l'hai fatta, mangiamo insieme. Quello è il mio pacco, per caso. Che cos'è? L'ho trovato molto comodo. Perché dovresti sederti sul pacco di qualcun altro? Oh, ho molta fame. Cosa vogliamo mangiare? Buona giornata. Quello è stato il giorno in cui lei ha iniziato ad aspettarmi. Buongiorno, hai mangiato? Ti vanno degli gnocchi di riso? Buongiorno! Maialino? Buongiorno, andiamo a mangiare!